Io ho titolato una colonna difensiva che fa gol, ormai sei diventato dipensore portante di tutta la difesa, lo organizzi e riesci a impedire anche spesso le iniziative avversarie. Mi fa piacere che Lidica spenda questa parola per me, però è un'organizzazione di squadra che ci permette di fare queste cose e poi diciamo che è una mia caratteristica magari di saper leggere un po' le situazioni e di parlare in difesa, però non penso che sia solamente io la colonna, siamo in quattro a difendere con tutta la squadra. Dunque ogni tanto il collettino lo faccio e mi fa piacere, soprattutto quando è pesante come questo. Prima dicevi che gli altri anni erano un'altra cosa, qual è la differenza tra questo anno e gli ultimi due? Il primo anno penso che era simile a questo perché a parte una parentesi verso novembre, in ottobre abbiamo avuto un po' di calo, poi dopo abbiamo fatto sempre un campionato di vertici perché siamo sempre stati lì in alto. L'anno scorso siamo partiti un po' così con dei malumori in estate e ci siamo portati dietro, quindi siamo stati bravi ad uscirne fuori da una situazione che poteva diventare brutta e poi a fare un campionato a vivacchiare. Quest'anno invece penso che stiamo diventando protagonisti, ma ripeto non abbiamo fatto nulla e dobbiamo continuare così. Differente mi pare che non c'è solo la qualità dei giocatori, ma anche la squadra che mi pare tutta unita e anche un allenatore che sarà tirare fuori il meglio da voi. Siamo una squadra giovane, una squadra con entusiasmo, una squadra che si conosce da un po' perché comunque siamo molti da due anni, da tre anni qui, da quattro anni anche. Quindi ci conosciamo di più e i nuovi che sono arrivati sono ambientati subito, hanno capito subito cosa vuol dire giocare per la San Manettese e con la San Manettese. Noi, diciamo, più grandi siamo stati bravi anche a farli inserire e niente, fin quando poi vinci crei entusiasmo, crei voglia ed è tutto più facile, diciamo. Senti, tuo padre che dice con la sua grande esperienza? Ancora, no, no, papà, pure lui dice che comunque è un'altra squadra, però essendo che lui ha giocato in categorie superiori sa cosa vuol dire fare calcio, sa cosa vuol dire stare sempre sul pezzo e curarsi sia quando sei al campo che soprattutto fuori nella vita quotidiana. Quindi c'ho il martello di Montero e c'ho il martello di mio padre. Hai detto che hai dedicato il gol a Nicola, il magazziniere, no? Ho dedicato il gol io e il gol e poi soprattutto la vittoria noi come squadra a lui perché gli è venuto a mancare il padre. Grazie. Grazie a voi.